Un saluto e ben ritrovati con le tendenze a medio e lungo termine di Trebi Meteo. Diamo uno sguardo a come sarà il periodo tra il 20 e il 22 ottobre sull'Italia e l'Europa. Notiamo come questo promontorio mobile di alta pressione tenderà a innalzarsi fin verso il nord Italia, anche l'Europa centrale, nel corso della nuova settimana, portando condizioni di stabilità, seppur con la presenza di nubi basse e foschie, in particolare sulle pianure del nord. L'alta pressione però nel corso di metà settimana tenderà a cedere a portarsi verso latitudini più meridionali, favorendo quindi l'incursione di correnti instabili legate a questa vasta circolazione depressionaria e piuttosto profonda attiva sulle isole britanniche, che si muoverà verso la Danimarca e la Scandinavia. Infatti l'influsso di correnti più instabili atlantiche porterà a un peggioramento verso metà settimana su parte del nord Italia con il ritorno anche della pioggia, così come sugli alti versanti terrenici. Chiaramente questa resta una linea di tendenza che necessita di ulteriori aggiornamenti, pertanto consultate l'app gratuita di 3B Meteo.